Prima pagina, la giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi. Pesanti ai danni dei civili. Si apre quindi una nuova fase detta siriana della guerra, una fase che purtroppo prevede la strategia del terrore proprio sui civili. Ma prima di parlare di questo e di aprire le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi andiamo a sentire le voci dei protagonisti che ci accompagneranno da qui fino alla fine. Andiamo. Tra i valori da perseguire c'è quello della solidarietà. Questo aspetto è stato emerso di più volte nelle nostre discussioni di oggi affrontando anche il tema dell'energia. Di fronte a chi fa dell'energia uno strumento di pressione internazionale, di speculazione internazionale, l'Europa è chiamata a rispondere con un senso di coesione, di unità accresciuto, con un senso di comunità molto forte. Perché soltanto così potremmo dare risposte sostenibili socialmente ed economicamente. L'altro tema di grande importanza affrontato riguarda l'Unione come promotrice di giustizia sociale. La dimensione esistenziale dell'Unione Europea fa parte del suo DNA comunitario. e sin dalla firma dei trattati di Roma, questo aspetto constituisce uno dei fondanti, su cui si è sviluppata l'integrazione e il rapporto fra di noi e con il resto del mondo. Questo è stato molto importante, in cui le prese ancora non sono ancora da l'integrazione, in cui le prese non sono ancora da l'integrazione, è importante, che tutti i stati i loro bürger e bürger e bürger e bürger sostenibili. Sì, abbiamo già già avuto molte entlasti per i nostri bambini e abbiamo già avuto un po' di spazio. Abbiamo con la decisione per i nostri Stabilisierungsfond, e la possibilità di 200 miliardi di euro, in 2022, 2023 e 2024, una buona entlastita per i nostri bambini, per i nostri bambini, per la sicurezza di lavoro. Però abbiamo visto che i nostri bambini, adesso e in i prossimi anni. Grazie. Grazie. Grazie Presidente. Mezzo da canale. Ministro Giuseppe, deputato. Solo quattro settimane fa ci siamo trovati qui in questo vicino per il discorso sullo Stato dell'Unione, ma in queste quattro settimane il Cremlino ha fatto un'escalation a nuovi livelli di aggressione. Putin ha lanciato la prima mobilitazione in Russia dalla Seconda Guerra Mondiale, trattando centinaia di migliaia di giovani rossi come carne da canone. ha fatto dei referendum di farlotti in un tentativo illegale di cambiare frontiere internazionali con la forza e da mesi usa l'energia come carne. E allora la preoccupazione per una nuova guerra in Europa è stato convocato il Consiglio europeo a Praga. Ci sono state tante novità anche in Commissione europea. Lo avete visto dal video c'era addirittura Josep Borrell presente, l'alto commissario per la sicurezza dell'Unione europea. Si teme il peggio per il nostro continente, si teme il peggio per l'Ucraina. Volodymyr Zelenskyy parla di escalation nucleare e in Azerbaijan Erdogan probabilmente vorrà fare nuovamente da mediatore proprio ora che Vladimir Putin ha aperto la porta del dialogo soprattutto a Stati Uniti, Francia, Inghilterra ma non all'Ucraina. E poi Olaf Scholz che convoca il G7 per oggi, G7 che vedrà anche la presenza dell'Ucraina. Ovviamente si parlerà di sicurezza e Joe Biden, Joe Biden che parla della peggiore crisi internazionale ed intercontinentale dalla crisi missilistica di Cuba del 1962. Questa la cornice che ci accompagnerà per tutta la puntata. Ora apriamo e sfogliamo le prime pagine nei quotidiani nazionali di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera che titola l'Inferno di Putin, Missili e Terrore. Il Corriere della Sera quindi apre con i bombardamenti che si sono registrati nelle strade centrali di Kiev ma anche di altre città maggiori ucraine. Bombardamenti volti proprio a colpire infrastrutture e civili. Bombardamenti che vengono accostati ad un'immagine di terrore, appunto di terrorismo. Bombardamenti che fanno presagire una quarta fase della guerra. Quella appunto della strategia del terrore come dice la Repubblica. Una strategia del terrore che tra l'altro i russi avevano portato avanti già in Siria. Quindi si parla appunto di fase siriana della guerra. Una fase di totale devastazione per le infrastrutture civili. Una fase che costa sangue. Secondo Josep Borrell, lo ricordiamo l'alto commissario per la sicurezza dell'Unione Europea. Questa scia di sangue, questa strategia del terrore servono a Vladimir Putin a cercare di modificare le scelte dell'Unione Europea. Pressando proprio l'Unione visto il costo elevato delle vite dei civili in Ucraina. Josep Borrell e Ursula von der Leyen però rimangono ancorati alle loro posizioni. Bisogna inviare più armi all'Ucraina. Quindi ci saranno nuovi pacchetti di aiuti bellici proprio a Kiev. E poi ci saranno ulteriori sanzioni che andranno a colpire il settore petrolifero russo. Poi vedete il sottotitolo di Repubblica. Putin pronti ad azioni più dure. Zelensky non ci fermeranno. Quindi i due leader più che a confronto a scontro ancora non si parleranno nel vertice mondiale in Azerbaigiana previsto per questa settimana. Putin appunto vuole aprire a questa nuova fase. Zelensky però non vuole cedere il passo. Il passo anzi chiede proprio agli occidentali di aiutare l'Ucraina ancora una volta e di aiutarla più forte di prima. La stampa furia russa con una foto terribile. Terribile. Questo è uno degli snodi principali della città di Kiev. Ci troviamo praticamente di fronte alla piazza principale quella che siamo stati abituati a vedere in tutti questi mesi di guerra dai vari notiziari. Qui c'è stato uno dei bombardamenti che ha provocato più vittime oltre a quello che ha riguardato un parco giochi, la Shevchenka. Insomma qui si è voluto colpire proprio tutte le persone che stavano andando a lavoro o comunque i ragazzi che stavano andando a scuola perché i bombardamenti sono avvenuti tra le 7 e le 8 di mattina appunto in questo snodo principale che vedete in foto che è uno dei più trafficati di Kiev. Comunque i soccorsi sono arrivati tempestivamente. Si parla attualmente soltanto nel centro di Kiev di 12 morti e di 100 feriti. 100 feriti che sarebbero stati soccorsi tempestivamente come dicevamo. E poi i soccorsi sono arrivati sul posto anche per cercare di ricostruire questa infrastruttura principale per la mobilità appunto di Kiev. Sembrerebbe comunque già essere sistemata. E poi libero l'ultima spina vengo anch'io not to no braccio di ferro sull'ingresso della Ronzulli al governo Silvio insiste ma Giorgia resiste. E' questione secondaria quindi continua la diatriba per i nomi che andranno a formare appunto il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni e adesso ancora premier in pectore. Sembrerebbe esserci anche già la prima data utile per la formazione del governo ovvero la data che riguarda l'elezione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato che dovrebbe tenersi il 20 di ottobre dopo la prima seduta quella del 13. Ebbene come dicevamo Toto Nomi Silvio Berlusconi chiede l'ingresso nell'area di governo della Ronzulli però Giorgia Meloni vorrebbe al posto del di Castero che Silvio Berlusconi aveva proposto per la Ronzulli un nome tecnico. Ecco c'è stato questo scontro all'interno della maggioranza guidata dal centrodestra per i nomi tecnici. Giorgia Meloni vorrebbe un ventaglio di nomi di circa 12-13 tecnici per Silvio Berlusconi e per Matteo Salvini invece i nomi dovrebbero essere esclusivamente politici e ovviamente appartenenti all'ala di centrodestra. La vendetta russa poi sempre libero la vendetta russa missili sui civili G7 pronto a reagire come dicevamo è stato convocato per oggi alle 16 il G7 che si terrà in Germania sarà presente oltre ai leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo anche Volodymyr Zelensky. Si parlerà di sicurezza ovviamente non solo a livello industriale non solo a livello economico ma si parlerà di sicurezza militare e per i civili in tutta l'area europea. E poi il giornale missili russi sulle città macelleria putiniana quindi addirittura si parla di macelleria da parte di Putin il giornale torna a puntare il dito ferocemente su appunto Putin e sulle sue azioni. E' interessante vedere a questo punto i due giornali che tendenzialmente vengono attribuiti ad un'ala più di destra se vogliamo politicamente parlando appunto Libero il giornale qui a confronto il giornale apre praticamente a tutta pagina con macelleria putiniana quindi con gli orrori di Kiev e dintorni. Libero invece non dedica neanche un titolo ai bombardamenti sui civili si parla sì della vendetta russa ma si pone l'accento sul G7 mentre qui si parla appunto di politica interna sempre a Libero. E' interessante vedere questa dicotomia all'interno se vogliamo della stessa influenza politica sulla stampa. Il fatto quotidiano più la guerra peggiora meno vogliono la pace bellicisti in Italia non si fermano neppure con l'escalation e i dubbi USA. Ecco si torna a parlare di dubbi statunitense per due motivazioni. Numero uno Joe Biden ha parlato di un escalation che potrebbe essere nucleare un Armageddon in Europa addirittura aveva detto Joe Biden. E quindi bisogna forse rivedere quelle che sono le politiche a favore di Kiev. Proprio negli ultimi giorni ci sarebbero stati degli scontri verbali tra Volodymyr Zelensky e Joe Biden. Scontri verbali perché? Perché Volodymyr Zelensky chiede non solo nuovi pacchetti di armi ma chiede addirittura armi a lunga e media gittata. Si parla di missili che quindi potrebbero essere utilizzati per andare a colpire le infrastrutture del Donbass o ancora della Crimea. Joe Biden ha declinato questa sorta di offerta e allora c'è stato uno scontro verbale tra i due. Gli Stati Uniti quindi iniziano a nutrire seri dubbi sul supporto indiscriminato all'Ucraina. Mentre però invece in Italia e in generale in Europa vige un'altra linea Ursula von der Leyen ma anche Josep Borrell insieme ad altri leader italiani tra cui Mario Draghi hanno parlato di nuovi pacchetti di aiuti per Kiev e nuove sanzioni alla Russia. E quindi il fatto quotidiano si chiede come si arriverà ad una pace se l'Unione Europea continuerà ad avere questa linea nonostante appunto l'escalation che può essere nucleare e i dubbi degli Stati Uniti. Quindi e poi questa è la lettura del fatto quotidiano più la guerra peggiora e meno peggiora meno vogliono la pace effettivamente con l'aumentare delle vittime tra i civili con l'utilizzo di ampi fondi per questa guerra e ancora con la distruzione delle infrastrutture sia da parte ucraina sia da parte russa. Ovviamente le due parti verranno alla pace verranno ad un confronto più difficilmente perché vorranno più risarcimenti. E poi continuiamo con la verità a Banca Italia scappa la verità a gas caro per imporre il green e poi i burioni malato dopo quattro dosi il vaccino non protegge infatti togliete l'obbligo e poi il meloni primo facendo riferimento ovviamente al governo ancora al palo Meff e Laronzulli i due nodi. Due nodi interessante vedere come anche la verità non acceni minimamente appunto ai bombardamenti che si sono registrati su Kiev e in tutta l'Ucraina. Solo questioni di politica interna e addirittura insomma vedete burioni malato di coronavirus che è una questione parliamoci chiaro più che secondaria. Quindi la verità oltre al libero non parlano di bombardamenti. Libero quantomeno li accenna la verità non non tratta minimamente della questione ucraina nonostante abbia un'incidenza pesante anche sul nostro paese e sull'Unione Europea nonostante sia la notizia ovviamente più calda di giornata. Poi il tempo la carica dei 600 il futuro Parlamento e poi sotto Virginia la desaparecida è scomparsa dai radar politici e poi Putin si vendica del ponte sui civili. Il tempo decide di inserire invece la questione relativa ai bombardamenti in Ucraina alla fine della prima pagina più o meno lo vedete qui. E poi il messaggero la vendetta dello zar gas l'Unione Europea verso il debito comune questa la prima probabile intesa all'interno dei 27 stati dell'Unione quando si parla di crisi energetica. L'Unione Europea va verso l'erogazione di nuovo debito che può essere poi estinto in maniera comunitaria per cercare delle manovre che siano impellenti. Quindi probabilmente si troverà una soluzione simile a quella adottata dalla Germania che lo ricordiamo nei giorni passati aveva approvato un pacchetto di aiuti per famiglie di imprese di 200 miliardi di euro. Lo aveva fatto in maniera solitaria l'Unione Europea potrebbe riprodurre questo sistema a livello appunto comunitario. Poi il quotidiano domani la ville rappresaglia di Putin sui civili il più grande attacco dall'invasione. Anche il quotidiano domani apre appunto con la questione Ucraina e si parla del più grande attacco dall'invasione. Io sottolineerei ai danni dei civili. E poi il sole 24 ore derivati tassi e valute l'incertezza domina sui mercati stabilità in bilico. Il sole 24 ore lo sappiamo un quotidiano economico apre con la situazione finanziaria dell'Unione Europea e dell'Italia parlando appunto soprattutto di tassi di interesse e del crollo delle varie valute occidentali tra cui anche l'euro. E poi dai comuni alle ASL bollette più 45 per cento per le utility un mese di ossigeno. E poi il manifesto l'orrore di Putin con una foto che viene arriva direttamente dal centro di Kiev. Un palazzo popolare lo vedete qui devastato dai bombardamenti. E' uno dei nove palazzi popolari colpiti ieri da una serie di 53 missili russi che sono caduti sulla città di Kiev tra le 7 e le 8 del mattino. Ora ovviamente di punta per andare a scuola o per andare appunto al lavoro. Il mattino l'orrore Putin allerta Nato ovviamente non solo l'Unione Europea anche la Nato rimane in allerta di fronte a questa nuova fase della guerra in Ucraina. Ovviamente si punta a rinforzare le difese ad est dell'alleanza atlantica e soprattutto si monitora quello che sono i cieli, quello che è lo spazio aereo della Nato per evitare ripercussioni proprio sulla Nato. E poi a proposito di Nato, ieri c'è stato un bombardamento che è passato un po' in sordina che riguarda proprio Kiev. E' stato colpito il consolato tedesco nel centro di Kiev. Fortunatamente nessun ferito e nessun morto per la delegazione tedesca. Però è un attacco diretto quello sul suolo tedesco. Essendo appunto il consolato tedesco, lo sappiamo, quello risulta essere a livello legale come suolo tedesco. Quindi la Nato rimane in allerta anche per questo attacco diretto appunto ad un suolo, ad un terreno europeo e comunque dell'alleanza atlantica. Il riformista e i Conte, ma i 5 Stelle, non erano nati per distruggere i sindacati. E poi proposta, mettiamo nel Consiglio Superiore di Magistratura, un radicale. Poi sotto Putin ha scatenato la vendetta per il ponte. Il riformista apre quindi con una questione relativa al Movimento 5 Stelle e il suo rapporto con i sindacati. E poi comunque accenna alla vendetta di Putin sulle città ucraine. Il resto del carrino, il congedo di Draghi, missione compiuta. Si parla della formazione del nuovo governo e poi sotto l'abisso con una delle foto che sta circolando di più in rete. Un pompiere che salva una donna dalle macerie con i suoi due cani che appunto scappano da uno dei nove palazzi popolari che erano stati bombardati. Poi il dubbio, missili russi su Kiev, Putin alza il tiro, USA al loro fianco. Poi il foglio, il nemico della pace si chiama Putin e per chiudere avvenire una pioggia di fuoco con un'altra foto che ormai è diventata già famigerata o famosa a seconda dei punti di vista e che riguarda i bombardamenti sui civili proprio lì in Ucraina. Allora, queste le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, interessante notare come la notizia ovviamente più calda di giornata riguardi l'Ucraina e i bombardamenti russi e i danni dei civili che aprono quindi questa nuova fase della guerra. Sono pochissimi i giornali che non ne parlano, Libero lo accenna ma soprattutto è la verità, a stupire la verità non accenna minimamente a quella che è la guerra in Ucraina preferendo addirittura una notizia come Burioni malato di Covid dopo quattro dosi. Va bene, adesso iniziamo a sfogliare il nostro di giornale, partiamo come sempre dalla cronaca locale, partiamo dalla Metro B di Roma. La Metro B di Roma viaggerà in questi giorni a velocità e a cadenza ridotta. Tutto questo per cercare di monitorare il terreno in alcuni tratti della Metro B, soprattutto tra Piramide e Laurentina che sono sotto osservazione per specifici macchinari e soprattutto per il suolo che potrebbe cedere secondo le autorità. Quindi i treni viaggeranno per 30 km orari in questa tratta e soprattutto viaggeranno appunto in maniera ridotta. E poi è uscito un dossier della regione Lazio che riguarda un gas che sembrerebbe essere tossico e cancerogeno e che sarebbe presente in larga parte proprio nella nostra regione. Parliamo del Radon, è un gas che va a colpire soprattutto le vie respiratorie e sarebbe la seconda causa di cancro dopo il fumo di cancro ai polmoni ovviamente. Purtroppo il Lazio è la regione con il più alto concentramento di Radon, ha un valore doppio circa rispetto alla media nazionale e triplo rispetto a quella mondiale. Quindi le autorità sanitarie stanno studiando questo fenomeno, stanno studiando il sottosuolo e stanno cercando di capire anche quale può essere una soluzione per questo gas che è tossico e che purtroppo può rappresentare un vero pericolo per la salute pubblica. E poi il Comune di Roma ha approvato delle nuove regole per l'accesso in spiaggia durante l'inverno. Parliamo del litorale romano, soprattutto osti e dintorni. È stata pubblicata infatti l'ordinanza del sindaco. Per garantire una corretta fruizione del mare, si legge, vanno innanzitutto rimosse le strutture legate al suo impiego estivo come sdraio, lettini e ombrelloni. La fascia di arenile che si sviluppa nei 5 metri successivi alla battigia inoltre va lasciata completamente sgombera. È possibile installare delle barriere antisabbia alte al massimo un metro e mezzo per proteggere le strutture turistico-ricreative ma devono essere realizzate con dei materiali eco-compatibili come ad esempio il legno, i tessuti naturali, la iuta e devono essere posizionate a 10 metri dalla battigia. Non è assolutamente consentito, si legge sempre nell'ordinanza, l'uso di reti metalliche per delimitare gli stabilimenti ed impedire il libero accesso all'arenile. Quindi queste le regole che varranno per tutto l'inverno sul litorale romano. E poi continuano le proteste negli istituti scolastici romani. Ieri è stato occupato il liceo Argan, però secondo gli studenti ci sarebbero state delle violazioni serie delle libertà degli studenti. Perché? Perché non c'è stato nessun tipo di dialogo con il preside della scuola ma sarebbero entrati direttamente i carabinieri, addirittura la Digos, all'interno dell'edificio scolastico occupato dagli studenti per lo sgombero. Alcuni studenti addirittura avrebbero urlato alla violenza su di loro e parlano anche di repressione totale per delle voci, quelle studentesche, che non possono essere messe a tecere, soprattutto in questo momento storico dove gli studenti avevano occupato la scuola per cercare di chiedere più fondi proprio per gli istituti scolastici e per scagliarsi contro il governo Draghi. Infatti si legge anche in un comunicato degli studenti c'è una disastrosa mancanza di spazi fisici per la lezione a causa delle troppe iscrizioni. Tutto ciò è dovuto al taglio sull'istruzione. Queste le notizie che arrivano dalla capitale. Rimanete con noi perché tra poco andiamo a vedere invece le notizie di stampo nazionale e poi ce ne voleremo prima in Ucraina, poi a Mosca e poi in Nagorno-Karabakh per vedere quali sono le notizie, le novità che arrivano da quel territorio e come possono influire direttamente sulla pace in Ucraina e in Europa. Tutto questo tra pochissimo qui a Prima Pagina. A tra poco. Bentornati a Prima Pagina, il programma che vi dà la giusta dose di notizie al mattino. Sono Andrea Candelaresi e per la prossima mezz'ora continuerò a parlarvi delle notizie che arrivano dall'Italia ma soprattutto dal resto del mondo. Bene, è intervenuto Sergio Mattarella nella giornata di ieri in un convegno direttamente al Quirinale. Avrebbe parlato di una guerra sciagurata, una guerra che deve finire al più presto, una guerra che deve vedere l'Italia coinvolta nel ruolo di mediatrice esclusivamente per la pace. In tutto questo Giorgia Meloni stava lavorando alla squadra di governo, sembrerebbe esserci stata un'intesa sul ministero attualmente più complicato da gestire, parliamoci chiaro, ovvero quello degli esteri. Secondo i bookmakers il nome più probabile per il di Castero degli esteri sembrerebbe essere quello di Tagliani di Forza Italia su espressa richiesta di Silvio Berlusconi che però chiede all'interno dell'area di governo di vedere anche la presenza della Ronzulli. Giorgia Meloni ha imposto il suo veto su questo nome anche perché nel di Castero richiesto dalla Ronzulli ci vorrebbe un nome tecnico. E poi passiamo invece alla sicurezza che riguarda le autostrade nel nostro paese, un argomento purtroppo mai banale anche se dovrebbe esserlo. A tal proposito ci andiamo a vedere il servizio. La sicurezza sul lavoro è al centro di un'intesa siglata da Autostrade per l'Italia, INAIL e sindacati dei trasporti e delle costruzioni. Il protocollo riguarda i cantieri per la realizzazione delle nuove tratte autostradali e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti e mette le basi per una collaborazione permanente per la diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera. L'intesa mira a garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita trainata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in linea con l'obiettivo zero incidenti di autostrade per l'Italia. A zero si può arrivare, ne siamo convintissimi. I risultati che abbiamo portato in questi tre anni dimostrano che abbiamo ridotto di più del 50% il livello degli infortuni. Quindi se continuiamo a lavorare in questa direzione con l'aiuto di tutti e creando la sinergia tra le eccellenze del Paese l'obiettivo è certamente raggiungibile. Possiamo avere un'ambizione di essere ancora più veloci di quello che abbiamo fatto fino ad oggi visto i partner dalle organizzazioni sindacali alle grandi realtà come INAIL più anche le altre aziende con i quali siamo assolutamente disponibili a confrontarci possiamo raggiungere questo obiettivo. All'interno di alcuni cantieri inoltre saranno sperimentate soluzioni tecnologiche innovative per la sicurezza. Si tratta di portare le proposte INAIL per la sicurezza nei luoghi del lavoro perché nei luoghi del lavoro noi testiamo le soluzioni di ricerca innovativa di INAIL dalle magliette intelligenti ai sensori ai robot collaborativi anche ai modelli organizzativi del cantiere che studiamo, disegniamo e proponiamo e lo facciamo non più solo in laboratorio lo facciamo in uno dei grandi luoghi del lavoro italiano come il sistema di autostrade per l'Italia. E allora queste le novità che arrivano dalle autostrade ma ce ne sono anche altre relative alla crisi che più sta facendo parlare in questi giorni parliamo della crisi energetica la Lega chiede un pacchetto di 50 miliardi di euro sulla scia di quello proposto da Olof Scholz in Germania che invece ammontava 200 miliardi di euro e che verrà erogato proprio in questi mesi l'Italia lo chiede secondo la Lega con uno scostamento di bilancio e lo chiede in maniera repentina perché sono tante le famiglie e le imprese che non ce la farebbero più ovviamente la risposta di Giorgia Meloni è tardata ad arrivare anche perché si stanno valutando varie ipotesi ma probabilmente si sceglierà di adottare la linea comunitaria europea che prevederà comunque uno scostamento di bilancio comunitario a favore di pacchetti che appunto sulla scia di quello tedesco potranno andare ad aiutare imprese e famiglie e poi Ursula von der Leyen ha parlato di un bilancio che deve essere rivisto entro l'anno dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo per prevedere appunto tale scostamento e quindi l'erogazione di liquidità nelle casse dei cittadini e delle aziende proprio per far fronte a tale penura energetica ma bisogna tener conto soprattutto delle entrate tributarie a questo punto per prendere più liquidità possibile proprio per far fronte all'emergenza climatica ma soprattutto energetica a proposito di entrate tributarie ci andiamo a vedere il servizio cresce il gecchito delle entrate tributarie erariali che in Italia nei primi otto mesi del 2022 ammontano a oltre 343.704 milioni in aumento di oltre il 13% rispetto al periodo gennaio-agosto del 2021 secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad agosto le entrate tributarie registrano un più 23% in particolare le imposte dirette hanno avuto un aumento del gettito del 36% quelle indirette poco sopra il 9% nei primi otto mesi il MEF segnala incrementi per i gettiti di IRPEF e IRES oltre che per le imposte indirette all'andamento positivo ha contribuito l'IVA in crescita anche le entrate dell'imposta di bollo e di registro mentre l'imposta sulle assicurazioni ha avuto una variazione negativa per 8 milioni segnano un più 36% le entrate relativi ai giochi mentre il gettito che deriva da attività di accertamento e controllo ha evidenziato un incremento pari a oltre 3 miliardi e allora entrate tributarie che possono aiutare certamente a far fronte alla crisi energetica ma Mario Draghi ha ribadito a più riprese sì bisogna contrastare ovviamente il caro energia ma bisogna pensare anche a fonti alternative di energia fonti che possano risultare rinnovabili e che possano salvare l'ambiente ma che soprattutto possano rispondere all'esigenza dell'Unione Europea di non essere più strettamente dipendente dal gas e dal petrolio russo o comunque dal gas di altre nazioni quindi l'Europa deve raggiungere l'autosufficienza nei prossimi decenni con energie appunto pulite e allora a tal proposito per far fronte in primis alla penuria di gas naturale e in secondo luogo per far fronte anche all'emergenza climatica si sta pensando al decreto riscaldamento in Italia e in Europa vediamo il servizio Roberto Cingolani, ministro della transizione ecologica ha firmato il decreto riscaldamento che diventa quindi effettivo il provvedimento è stato studiato per ridurre i consumi energetici ed evitare di attuare un piano di razionamento per ridurre in modo significativo i consumi di gas nel dettaglio è stata creata una mappa di accensione dei riscaldamenti che suddivide le regioni italiane in zone con descritte le specifiche riguardo temporalità e periodicità dell'accensione del riscaldamento ciò nonostante, spiega il ministero qualora si verificassero situazioni climatiche particolarmente severe i comuni potranno disporre l'accensione dei riscaldamenti anche fuori dalle fasce orarie e dai giorni previsti nella mappa è importante ricordare che la temperatura dovrà essere regolata a 17 gradi per le attività industriali e artigianali e a 19 gradi per gli altri edifici e poi sono tanti gli attacchi cyber che hanno investito non solo la regione Lazio, non solo l'Italia ma tutta l'Unione Europea anche nelle pubbliche amministrazioni allora c'è bisogno di rivedere proprio l'apparato della Cyber Security vediamo il servizio favorire lo sviluppo di un ecosistema nazionale per la formazione delle nuove competenze digitali supportare la valorizzazione delle migliori esperienze degli istituti tecnologici superiori ITS Academy sostenere la formazione di tecnologi altamente specializzati con possibilità di sbocchi a tutti i livelli sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato sono i principali obiettivi dell'accordo di collaborazione siglato al Ministero dell'Istruzione con la firma dell'accordo ha preso il via la rete di coordinamento nazionale degli ITS Academy per la transizione digitale che promuoverà lo sviluppo di percorsi formativi dedicati alla digitalizzazione e alla sicurezza informatica dei processi delle imprese private e della pubblica amministrazione l'accordo favorirà la creazione di una comunità di buone pratiche che consentirà alla rete di avvalersi di competenze qualificate esperti e docenti provenienti dal mondo accademico delle imprese e delle professioni e di modelli formativi e didattici e allora questo un altro tassello per la sicurezza dell'Unione Europea e a proposito di sicurezza dell'Unione Europea adesso voltiamo pagina e parliamo di cronaca internazionale una cronaca internazionale che spaventa a livello comunitario europeo che spaventa il nostro paese che spaventa soprattutto i civili in Ucraina abbiamo aperto proprio con questa notizia ci sarebbero stati dei bombardamenti nella giornata di ieri nel centro di Kiev ma soprattutto nel centro di altre città appunto ucraine bombardamenti che secondo il Consiglio Nazionale di Sicurezza Russo sarebbero avvenuti dopo l'attacco del ponte in Crimea con un senso di vendetta bombardamenti quindi volti proprio a colpire i civili e le infrastrutture civili creando quindi disagi e purtroppo provocando morti e feriti almeno 12 morti ieri nel centro di Kiev più di 100 i feriti nel centro di Kiev sarebbero stati bombardati dei nodi principali della viabilità tra le 7 e le 8 del mattino quindi durante l'orario di punta si parla di attacco a scopo terroristico di strategia del terrore queste le parole utilizzate da Volodymyr Zelensky che fanno presagire ad una nuova fase a questo punto della guerra in Ucraina la quarta fase detta siriana poiché ricordano i bombardamenti su alcune città siriane tra il 2014 e il 2015 portati avanti proprio dalle truppe russe che avrebbero devastato varie città tra cui anche Aleppo si puntava proprio a uccidere i civili e la stessa cosa potrebbe purtroppo avvenire in Ucraina il senso qual è secondo Josep Borrell alto commissario della sicurezza dell'Unione Europea è quello di cercare di premere sul pedale dell'acceleratore per Vladimir Putin per chiedere appunto meno sanzioni da parte dell'Unione Europea Vladimir Putin infatti avrebbe chiesto essenzialmente di revocare le sanzioni e poi lo vedete in grafica il tweet di Sergei Sumlenni Sergei Sumlenni che appunto residente di Akiev lavorava nel consolato tedesco che ieri è una notizia che è passata in sordina ma che in realtà è importante è stato bombardato da un missile russo ecco lo vedete lo afferma in inglese è stato distrutto appunto un ufficio del consolato tedesco dai missili russi questo si parla addirittura di Leopards che sarebbero dei missili veramente imponenti in grado di distruggere palazzi che sarebbero stati indirizzati verso un consolato europeo e che ovviamente riguarda il suolo europeo perché sappiamo che tutti gli uffici consolari in giro per il mondo ovviamente appartengono al paese di provenienza quindi quello era essenzialmente suolo tedesco allora c'è l'allerta Nato c'è l'allerta del G7 che è stato convocato oggi proprio dalla Germania un G7 che vedrà addirittura la presenza di Volodymyr Zelensky si parlerà di sicurezza a livello europeo e poi Josep Borrell addirittura punta il dito contro la Bielorussia perché Lukashenko leader indiscusso bielorusso dal 1994 avrebbe parlato di un'unione europea che vorrebbe attaccare anche con armi non convenzionali la Bielorussia Josep Borrell però ha monito il leader bielorusso e avrebbe chiesto alla Bielorussia di non entrare in questa guerra e soprattutto avrebbe affermato che l'unione europea non ha nessun interesse ad iniziare una nuova guerra contro la Bielorussia per l'appunto e poi è stato convocato ieri il consiglio di sicurezza russo Vladimir Putin ha parlato appunto di questa nuova fase della guerra che potrà andare a colpire infrastrutture civili e non solo e soprattutto una nuova fase della guerra che deve attenzionare la sicurezza all'interno dei territori russi dopo l'attacco in Crimea quindi si teme addirittura l'utilizzo di armi non convenzionali e proprio di questo ha parlato Joe Biden con Volodymyr Zelensky c'è stato uno scontro tra i due perché Volodymyr Zelensky chiedeva a Joe Biden l'utilizzo di armi a lunga e media gittata così però non può essere secondo Joe Biden che avrebbe chiesto nuovi pacchetti di aiuti militari all'Ucraina nuovi pacchetti di aiuti militari che però non debbano comprendere queste armi poiché potrebbero portare ad un'escalation nucleare peggiore della crisi missilistica di Cuba del 1962 quindi questa è la situazione tra Stati Uniti ed Ucraina ma bisogna aggiungerci anche le elezioni di mid term che si svolgeranno il 23 novembre proprio negli Stati Uniti Volodymyr Zelensky si è detto preoccupato per tali elezioni poiché se non dovesse essere confermato Joe Biden e se non dovesse essere confermata la guida dei dem appunto negli Stati Uniti potrebbe essere un problema tornando ai repubblicani infatti secondo Volodymyr Zelensky potrebbero venire meno tutti quegli aiuti all'Ucraina aiuti che finora sono stati indiscriminati sono stati dati anche con grande vigore soprattutto a livello economico soprattutto a livello bellico aiuti che sicuramente vanno ad aumentare il tempo relativo a questa guerra vanno ad allungare questa guerra ma che vanno comunque ad aiutare la sicurezza Ucraina ebbene secondo Volodymyr Zelensky nel caso dovessero vincere i repubblicani che ricordiamo trovano ancora una volta il nome di Donald Trump potrebbe essere un problema un problema poiché i repubblicani lo hanno già detto vorrebbero nuove tipologie di aiuti per Kiev aiuti che sarebbero economici e non bellici aiuti che potrebbero servire all'Ucraina esclusivamente per ricostruire le infrastrutture distrutte dalle truppe russe e soprattutto dai bombardamenti russi di questi giorni quindi dopo la siriazzazione della guerra in Ucraina e poi cercando di fare un po' il punto della situazione sui bombardamenti russi di ieri nelle varie città ucraine bisogna dare un po' di numeri giusto per capire insomma dicevamo circa 12 morti nel centro di Kiev 100 i feriti sono state colpite anche Dnipro Leopoli Kharkiv e Zaporizia secondo il più importante generale dell'esercito ucraino ovvero Valery Zaluzny la Russia avrebbe lanciato in tutto 75 missili contro l'Ucraina e che sarebbe riuscita ad abbatterne 41 con il suo sistema di difesa aereo è un'affermazione credibile visto che il numero di città bombardate ma che al momento non si può confermare con una fonte indipendente da quelle ucraine Kiev non veniva bombardata addirittura da giugno dopo gli attacchi nelle prime settimane della guerra secondo il servizio di emergenza ucraino sono state uccise almeno almeno 12 persone ferite 100 le organizzazioni umanitarie che fanno soccorso sul posto e che normalmente aiutano a verificare queste stime in modo imparziale non si sono espresse a riguardo o non hanno potuto la Croce Rossa e il Consiglio Norvegese per i rifugiati per esempio hanno detto di aver sospeso per oggi le attività di soccorso in Ucraina per ragioni di sicurezza ma c'è un nuovo nodo che riguarda appunto la cronaca internazionale e soprattutto una guerra che adesso è raccontata di meno ma che può influire pesantemente sulla sicurezza europea e sulla guerra in Ucraina parliamo della guerra tra Armenia e l'Azerbaijan un conflitto latente ma che riesplode in alcune fasi e che riguarda il Nagorno-Karabakh un'altra delle aree visitate da Paolo Battaglia buongiorno Paolo buongiorno buongiorno Andrea buongiorno a tutti io ieri ho fatto una domanda praticamente non lecita con Paolo gli ho chiesto se sei stato in Nagorno-Karabakh niente ha detto che lui mastica mastica il Nagorno-Karabakh tutti i giorni allora giusto per comprendere qualcosa in più su questo conflitto che è raccontato veramente poco in Italia cerchiamo di ripercorrere le tappe storiche che hanno portato al conflitto armato tra Armenia ed Azerbaigiane che vedono queste due nazioni questi due stati contendersi appunto la regione del Nagorno-Karabakh in realtà il conflitto ancora in atto diciamo che sta per esplodere sarebbe il terzo a cominciare nel 1988 quando ci furono le prime rappresentate del confine tra la Armenia e la Zerba e il giornale che allora facevano parte di queste l'unico sovrappure che erano ancora stati non indiretti ma in realtà era più al 1991 quando la Zerba e già nel gusto del 91 ricordiamo ancora era ancora a piedi l'Unione Sovietica poi nonostante la famosa furbe a Gormchow deciso di dichiararsi indipendenti in base a una legge del 1990 sempre l'UPS la regione Lobast del Nagorno-Karabakh ha deciso di dichiararsi a sua volta indipendenti quindi di la Zerba e già questo anche a ben sparte l'argomento ci dà meno perché noi abbiamo un conflitto etnico e religioso e da allora poi al 1994 quest'area di circa 4.000 chilometri quadrati è stata contesa tra i due eserci con due retti diversi la prima fase della guerra è quella che va dall'1894 divide vincitrice l'Armenia divide questo territorio che fa parte dell'Azerbaijan di fatto sottratto all'Azerbaijan e facente parte chiamiamolo così dello stato armeno anche se poi non c'è mai stata una sorta di Aschidus da parte dell'Armenia nei confronti Nagorno-Karabakh e poi questa seconda guerra che invece si è sviluppata addirittura durante il periodo del lockdown del Covid parliamo del 2020 allorché invece l'Azerbaijan riconquistò una grande parte dell'Artsak come viene chiamata appunto nella lingua locale nella lingua armena Nagorno-Karabakh e quindi rifatto ad oggi gran parte dell'area è sotto il controllo delle forze aziende Bene si parla anche comunque di un ruolo russo nella sicurezza di quest'area controllo russo che però sta avvenendo meno proprio in questi giorni vista la situazione in Ucraina visto l'ampio dispiegamento di forze umane e militari soprattutto appunto dei russi proprio lì in Ucraina ecco perché è fondamentale il controllo russo in quest'area e quando è iniziato il controllo russo della sicurezza ovviamente tra Armenia e Azerbaijan Beh è importante perché di fatto è strano a dirsi soprattutto dopo quello che è successo ieri a Kiev le forze russe sono una sorta di forze di peacekeeping nell'area del Nagorno-Karabakh cioè dopo il cessato del fuoco di due anni fa che ha ristabilito una sorta di preguarmata tra le due nazioni le forze russe presiedono al controllo del confine tra Azerbaijan e Armenia soprattutto il controllo di quelle che sono le aree ancora contese perché come ho detto gran parte invece del territorio del Nagorno-Karabakh a tutto oggi è rientrato a far parte della Azerbaijan parliamo poi di appunto di quindi una forza addirittura terza di un esercito terzo che controlla quelle aree proprio affinché non si ripetano quegli scontri quei conflitti che ovviamente hanno portato anche se in tono minore rispetto a quello che adesso vediamo nella guerra in Ucraina comunque delle devastazioni e dei morti quella è un'area che di fatto ancora non è assolutamente visitabile è un'area contesa addirittura chi si reca il Nagorno-Karabakh perché il Nagorno-Karabakh lo ricordiamo è una sorta di stato indipendente sul modello della transnistra in Mondavia e quindi di uno stato che non è riconosciuto ma che si è dichiarato indipendente addirittura chi ha il visto del Nagorno-Karabakh sul passaporto poi non può andare in Azerba il giorno quindi è ancora un'area profondamente contesa il paradosso appunto che i russi ritirandosi o comunque diminuendo la loro presenza nel Nagorno-Karabakh per dare assistenza alle forze russe in Ucraina praticamente stanno in qualche modo mollando o sicuramente riducendo l'attenzione in quell'area e il rischio è che con una sorta di idommico e di concatenazione degli eventi il Nagorno-Karabakh riesploda la guerra tra le due nazioni lo ricordo è di fatto una guerra etnico e religiosa perché l'Azerba è una nazione musulmana una nazione profondamente legata linguisticamente e culturalmente alla Turchia mentre l'Armenia è una delle regioni più cristiane dell'area ed è nemica storica della Turchia sappiamo benissimo quello che è stato poi tutta la storia dell'olocausto armeno nei confronti della Turchia e quindi è evidente che c'è una forma di remascia e di rivincita da parte dell'Armenia proprio nei confronti di queste nazioni che filoturche o comunque che richiamano un passato che l'Armenia non ha mai dimenticato di tanti ecco e l'Unione Europea invece come si pone di fronte a questa situazione in qualche maniera ha cercato di dare sempre una sorta di sostegno in realtà all'Armenia però mai un sostegno bellico sempre appoggio ovviamente diplomatici e soprattutto comunque la parola dell'Unione Europea in questo conflitto è solo una pace poi se bisogna tendere da qualche parte si andrà certamente verso l'Armenia una situazione questa che può essere scomoda non tanto per l'Unione Europea quanto per la Russia perché si troverebbe un conflitto al confine assolutamente sì beh di fatto l'appoggio dell'Unione Europea c'è sempre stato soprattutto in quell'area caucasica che da sempre è stata un'area profondamente piena di conflitti perché lo ricordiamo non è solo quella del governo che comunque chiamiamola così purtroppo con una brutta parola ma è una guerra minore ma c'è anche tutta la questione dei territori contenzi tra la Georgia e la Russia l'Akazia il Sud Ossezia sono aree quelle che sono state invase dall'esercito russo allo stesso modo come sono state invase il Donbass e la Crimea e fanno parte diciamo così tra virgolette sono territori controllati dalla Russia pur facendo parte di uno stato sovrano qual è la Georgia e sicuramente la Georgia è certamente una nazione che guarda all'Unione Europea però si tratta come ho detto di conflitti minori perché la tensione è ovviamente tutta spostata in un'area molto più vicina e molto più importante qual è l'Ucraina quindi è evidente che così come la guerra dove abbiamo anche a volte accennato della situazione conflittuale in Kosovo tra la Serbia e il Kosovo nelle aree appunto di confine è evidente che sì sono conflitti ma conflitti di cui non si parla mai perché fondamentalmente finché non c'è un'escalation importante è chiaro che l'Unione Europea monitora e attenziona più l'area della zona dell'Ucraina che attualmente è il conflitto che preoccupa maggiormente gli statisti europei ecco un'eventuale sconfitta della Russia a questo punto nella guerra in Ucraina ora facciamo un po' di fantapolitica però è bene fare anche delle previsioni potrebbe portare all'esplosione di quella che è una vera e propria polveriera in quell'area ma anche in alcune zone dei Balcani abbiamo parlato settimana scorsa della Bosnia delle elezioni di Dodik e ancora del Kosovo insomma sono tutte aree che si leggono su un sottile equilibrio che ovviamente verrebbe totalmente mandato all'aria da un'eventuale sconfitta a questo punto della Russia è così? Assolutamente sì perché è evidente che se la Russia perde il conflitto di fatto a detta di tutti gli analisti militari la Russia in parte l'ha già perso questo conflitto perché era una guerra che sarebbe dovuta durare al massimo un mese e che ormai a breve compierà invece un anno ed è evidente che la Russia lo sta perdendo sul piano militare perché non si aspettava né questa resistenza da parte degli ucraini né questo appoggio massiccio delle forze occidentali da un punto di vista militare all'Ucraina e quindi è evidente anche la reazione di ieri gli missili su Kiev dimostrano come la ferocia e anche la rabbia diciamo di Putin in primis dell'esercito russo nei confronti dell'Ucraina è evidente che come un effetto dominum eventuale ritiro della Russia dalle aree dell'Ucraina immagino credo nelle zone del Donbass la vedo più difficile nella zona della Crimea ma questo porterebbe a tutta una serie di eventi concatenati tra cui ovviamente la ridiscussione della presenza russa in Georgia il riaprirsi del conflitto tra Nagorno-Karabakh è quello più preoccupante perché quello coinvolgerebbe direttamente la Turchia perché la Azerbaijan viene invece foraggiata e dalla Turchia e addirittura dallo stesso Iran quindi il paradosso è proprio questo che si creerebbe un conflitto addirittura molto più esteso nel caso del Nagorno-Karabakh ecco tra l'altro la Turchia fa parte della Nato mentre l'Iran certamente non ha buoni rapporti con alcuni membri della Nato molto influenti tra cui gli Stati Uniti quindi sarebbe anche un conflitto strano esatto e fra l'altro appunto sappiamo già l'Iran e anche i problemi ha in questo momento addirittura si parla di una contro-rivoluzione la vedo molto difficile aprendo una piccola parente in Iran una contro-rivoluzione e ovviamente anche e ovviamente questo si estende al discorso del Kosovo la chiaramente la ridiscussione di quella che è la posizione in Bosnia della Repubblica Sersca e della Serbia perché perderebbe il suo alleato maggiore quindi a quel punto ovviamente non Dodik perderebbe gran parte delle sue debilità indirentiste chiaro che come insegna la storia spesso un evento ne determina tantissimi altri che possono essere addirittura peggiori peggiori del primo grazie Paolo Battaglia sempre prezioso quando si parla di storia ma ovviamente con un occhio sempre sull'attualità buona giornata buon lavoro buona giornata a voi un saluto e allora questo era l'ultimo tassello di conoscenza per oggi come sempre ci diamo appuntamento a domani ma ci lasciamo con il nostro moto solo a gran voce si può chiedere e raccontare la verità e allora cantare un saluto da Andrea Candelaresi prima pagina la giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi